Siete alla ricerca di un Fablet che oltre ad essere creativo deve essere anche produttivo? Beh, Hero 2 può fare al caso vostro. Molto interessante in tutti i vari comparti, pochi punti deboli, ma con un piccolo non senza. Scopriamo qual è? Eccoci con Hero 2 di Alcatel One Touch, il Fablet top di gamma del produttore. Come vedete purtroppo non abbiamo la confezione di vendita, ma cercheremo di recuperarla in seguito, almeno per la recensione scritta, poiché è molto carina da vedere vista la partnership con Evisi. Ma abbiamo già avviato il dispositivo, iniziamo col vedere quindi le dimensioni. Dimensioni di 160,5 x 81,6 x 7,9 mm di spessore e un peso di 175 grammi. Non lasciatevi spaventare, poiché 175 grammi possono sembrare parecchi, ma sono ben distribuiti su tutta la superficie e anche utilizzarlo con una sola mano non è poi un dispiacere, poiché non pesa, non sembra pesare così tanto. Per quanto riguarda il design e i materiali, design molto riuscito. Alcatel sta sfornando telefoni dal design davvero molto molto accattivante. Per quanto riguarda i materiali, anche qui ci siamo, poiché abbiamo una cover in alluminio, si tratta di un dispositivo monoblocco, quindi non si può rimuovere la parte posteriore, che è, abbiamo detto, in alluminio, tranne la parte superiore e inferiore, che è in plastica, dove probabilmente sono alloggiate le antenne. Sul lato destro abbiamo lo slot per la microSD, bilanciere del volume e il tasto di accensione. Sul lato sinistro abbiamo solo lo slot per la microSIM. Purtroppo un no sense di questo dispositivo è che si tratta di un dispositivo single SIM e non dual SIM, poi vedremo anche perché. Jack per le cuffie da 3,5 mm, porti infrarossi, secondo microfono. Sotto abbiamo plug per la microUSB, il foro per il pennino, pennino purtroppo solo capacitivo. Qui l'altoparlante di sistema, qui invece è un microfono, però per una questione di design mi piace che venga replicato nello stesso stile. Sul retro, camera da 13 megapixel con stabilizzazione smart, come la definisce il produttore. Si tratta di stabilizzazione ottica ed elettronica combinate. Qui abbiamo il flash LED e oltre al logo Alcatel qui abbiamo una serie di pin che si vanno ad interfacciare con una cover. Poiché non abbiamo la confezione di vendita, ma abbiamo questa Flip Magic Cover molto interessante. Una cover che oltre ad essere magnetica, quindi a risvegliare il dispositivo una volta che l'avviamo, ha anche una serie di LED all'interno della cover che ci vanno a notificare varie informazioni, come ad esempio email, chiamate perse, chiamati in arrivo, messaggi non letti, quindi con un'animazione volta per volta diversa. Molto carina, poiché ad esempio possiamo tenere anche in silenzioso il dispositivo, tenerla appoggiata sul tavolo e vedremo come man mano ci arrivano le varie notifiche e possiamo anche capire che tipo di notifica ci arriva. E una volta aperto va a risvegliare il dispositivo. Andiamo a rimuoverla per una questione di comodità per la video recensione. Per quanto riguarda il processore che muove il tutto, è un processore Mediatek MT6592, un octa-core da 2 GHz a core, un Cortex A7, che è accompagnato da una scheda grafica Mali 450 MP4, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, come abbiamo visto, espandibili, batteria da 3100 mAh, abbiamo detto non removibile, che ci porta a fine giornata senza nessun problema, anche collegato con il mio Mi Band, ma una pecca della batteria, anzi del processore, è che quando si avvia volta per volta, si avvia in modalità risparmio energetico, CPU. Cosa fa questo? Va a scaldare un tantino il dispositivo in questa zona e in realtà ho visto un battery drain molto più veloce rispetto al normale, quindi vi consiglio ogni volta che riavviate il dispositivo di andarla a rimuovere. Per quanto riguarda invece il software, abbiamo Android nella versione 4.4.2 KitKat, che è l'ultima base disponibile su hardware Mediatek, versione del kernel 3.4, frontalmente abbiamo un ampio display da 6 pollici, full HD IPS, 1920x1080 pixel, 364 pixel per pollice, cosa si tramuta? Tutto ciò si tramuta in un display davvero ben fatto. In più è anche un display full laminated, quindi vetro e display sono fusi in un'unica lastra e come vedete la taratura dei colori è davvero ottima. Un display davvero ben riuscito, che rende giustizia a questo telefono. In più, anche se lo andiamo a visualizzare ad angolazioni un po' più folli, il nero non tende più di tanto al grigio, quindi migliora anche da questo punto di vista. Vado nel menu impostazioni display per farvi vedere come sia presente anche la configurazione veloce del colore. Purtroppo possiamo andare solo a regolare la temperatura del colore, io sono sceso un filo sotto il freddo in modo tale da enfatizzare un po' di più il display. Per quanto riguarda invece il software, è l'ultima versione del software che possiamo trovare sui dispositivi già in commercio del produttore. Un software che ha subito una notevole svecchiata rispetto al passato ed ora è molto più piacevole e al passo anche magari con Android 5.0 Lollipop, visto il design davvero molto molto carino. Per quanto riguarda invece la parte telefonica, ci entriamo subito. Classica chiamata al 190. Vediamo il volume e attiviamo il viva voce. Allora, come avete sentito la qualità del volume è buona, ma il volume in sé per sé non è altissimo. Migliora sicuramente dalla capsula frontale, anche dall'altro lato ci sentono bene, quindi segno che i microfoni lavorano bene in sinergia, ricerca rapida in rubrica, non intelligente, ma comunque possiamo accontentarci. Ah, in più cosa comoda, di default possiamo andare a registrare la parte audio. Per quanto riguarda invece il comparto messaggi, anche qui non abbiamo particolari novità. Io, come sempre, vado ad utilizzare dopo un po' di tempo la tastiera stock di Google, ma vi è preinstallata la tastiera del produttore che, come vedete, la digitazione è davvero molto rapida, ci sta dietro senza problemi. Abbiamo anche la SwiftKey che ci permette di utilizzare anche lo swipe, ma come sempre consiglio di utilizzare quella di Google che, secondo me, è la più fulminia. Parte web. Parte web abbiamo sia il browser stock, abbiamo sia Chrome. Andiamo ad utilizzare Chrome, ero già sul sito del Corriere per vedere un po' di news e vedere anche come si comporta, ovviamente. E, come vedete, la fluidità è buona. Il pinch zoom non mi sembra molto reattivo. Quando andiamo a fare il pinch out ci impiega un po' di secondi per riadattarsi. Abbiamo qualche glitch, ma comunque nulla di drammatico. Andiamo a caricare una news per vedere i tempi di caricamento per una pagina che non è in cache. Andiamo a chiudere la pubblicità che ci si presenta e, come vedete, la fluidità è buona. Andiamo anche su Techzilla, ma essendo in modalità responsive, per forza di cose, la navigazione web deve essere eccezionale. Infatti, come vedete, qui il pinch to zoom non ha problemi e anche lo scroll è molto fedele e segue il nostro dito. Quindi, anche la parte web abbiamo visto com'è fatta. Per quanto riguarda, invece, la fotocamera, andiamo a prendere un oggetto. Il software non è molto diverso da quello degli altri dispositivi del produttore, ma si arricchisce nella modalità manuale. Modalità manuale che ci permette, un po' come sui Lumia, di andare a regolare in modalità manuale tutti i vari parametri, come ad esempio l'ISO, l'esposizione, la distanza della messa a fuoco e di tenerli in memoria, in modo tale anche quando rientriamo in seguito nella fotocamera verranno già memorizzati sul dispositivo. Andiamo a disattivarla per effettuare lo scatto, torniamo indietro. Qui, invece, sono tutte le altre modalità di scatto, HDR, panoramica, grande angolare, possibilità di altrivare i filtri e QR code che sono utilizzabili dalla fotocamera. Autofocus e scatto, come avete visto, molto rapidi, video in full HD a 30 fps, audio fortunatamente in MPEG 4 e abbiamo, come vi ho detto, stabilizzazione ottica ed elettronica. In più, cosa molto comoda, quando andiamo a registrare i video non viene fatto un crop dell'immagine e uno zoom, ma viene effettuata la stessa immagine che vediamo dall'app fotocamera. Ma entriamo in galleria e andiamo a vedere un po' le classiche immagini di test. Vi faccio vedere, prima di tutto, una foto effettuata in modalità manuale e in macro. Davvero ottimo il risultato. Solo il soggetto al centro è messo a fuoco, tutto il resto è completamente sfocato. Per quanto riguarda, invece, le foto di test, anche qui la qualità è sicuramente convincente. Andiamo ad alzare un attimo la luminosità, eccoci qua, mettiamola a due terzi. Dicevamo delle foto di test. Come vedete, la qualità è sicuramente buona. Possiamo andare a vedere anche foto sia normali sia in HDR, poiché viene sempre replicato lo scatto della foto. Come vedete, questa è la foto in condizioni normali, questa è la foto con scatto in HDR, che migliora significativamente le performance della fotocamera. Per quanto riguarda la parte video, ecco l'esempio di video e, come vedete, la qualità dell'immagine è davvero ottima. Videocamera superiore sicuramente alla fotocamera. Per quanto riguarda l'esempio video, possiamo anche andarlo a visualizzare in piccolo, spostarlo all'interno del display, stopparlo e chiuderlo. Comunque è presente su YouTube, quindi lo potete andare a visualizzare da lì. Per quanto riguarda invece la riproduzione dei video, vengono riprodotti tutti in maniera impeccabile. Andiamo ad alzare anche un po' l'audio. Come sentite, audio molto corposo, video che rende giustizia al display. Torniamo indietro e vi faccio vedere rapidamente anche il file MKV che viene riprodotto ma purtroppo senza audio. E, come vedete, anche qui se ci spostiamo non abbiamo problemi. In più, possiamo andare a vedere da questa finestra in maniera molto rapida dove ci potremo posizionare nel video se andiamo a muoverci col cursore. Passiamo ora alla parte audio. Parte audio che si avvantaggia della tecnologia Hi-Fi. Purtroppo solo in cuffia. Andiamo a sentire il nostro brano di test. Lo mettiamo da capo. Davvero ottima la qualità di riproduzione dell'audio. Peccato non avere due altoparlanti in modo da andare ad enfatizzare ancora di più l'audio. Dicevamo, audio Hi-Fi purtroppo riproducibile solo in cuffia e in più possiamo anche attivare degli effetti sonori solo quando abbiamo le cuffie inserite per migliorare ancora di più le performance dell'audio. In più, in confezione dovrebbero essere presenti delle cuffie JBL quindi qualità sonora in cuffia davvero ottima. Per quanto riguarda invece due applicazioni interessanti abbiamo l'applicazione Evisi che ci permette di andare a scaricare un brano a nostra scelta fra tutta la libreria precaricata online e abbiamo anche l'applicazione Cross DJ Hero che ci permette di effettuare dei mix in maniera molto semplice molto rapida con più brani qui come vedete abbiamo la replica di una vera e propria console ma per questo focus magari vi rimando alla parte scritta dove mi farà aiutare anche da un amico DJ in modo tale da darvi un'opinione più sicura e definitiva magari. Abbiamo anche PIL Smart Remote che ci permette di comandare l'infrarossi l'ho provato con 4-5 televisori diversi produttori non mi ha dato alcun problema. Per quanto riguarda la parte del pennino abbiamo detto un classico pennino capacitivo queste sono le uniche due applicazioni che ci permettono di interagire con il pennino un'applicazione di note mi permette di andare a scrivere posso bloccare la modalità dito e quindi riconosce solo il pennino posso andare a cancellare magari modificare il tratto e il colore nulla di più per quanto riguarda la personalizzazione. sicuramente più comoda e più carina anche come applicazione è FastMath che mi permette di andare a effettuare dei calcoli volta per volta che ottengo magari un risultato come vedete il risultato posso dividerlo per 5 qui ci aggiungo magari un più come vedete il risultato mi viene aggiornato volta per volta e come vedete il riconoscimento dell'input avviene in maniera davvero molto molto rapida in più non ve l'ho fatto vedere ma in tastiera abbiamo anche la modalità di tastiera con stylus mobile quindi scrivere con il pennino ma ve lo sconsiglio perché almeno personalmente non l'ho trovata molto molto comoda parte office parte office si avvantaggia di vps office per la gestione dei nostri file ecco il file excel di test che avevo precedentemente aperto quindi viene memorizzato rimane in memoria come vedete la visualizzazione è ottima merito anche del display da 6 pollici in più suite completa quindi possiamo andare anche a editare i nostri file il calendario vi faccio vedere com'è strutturato come vedete abbiamo una visualizzazione molto molto idonea che va a sfruttare sicuramente tutto lo schermo parte sopra visualizzazione mensile sotto l'elenco dei nostri appuntamenti abbiamo drive abbiamo la parte mail ma io vado ad utilizzare la configurazione su gmail mi ci trovo sicuramente meglio per quanto riguarda invece la parte gaming abbiamo riptide gp2 andiamo a vedere come si comporta il dispositivo in fase di stress test della gpu attendiamo qualche secondo per il caricamento del gioco real racing che forse è sicuramente il gioco più pesante da gestire su dispositivi android attendiamo ancora qualche secondo sta scaricando i dati poiché si è aggiornato in mattinata eccoci qua vado ad alzare un po' il volume poiché la riproduzione del gioco è partita eccoci qua animazione d'ingresso andiamo in modalità carriera amatore purstock challenge selezioniamo la pista quest'auto può andare sicuramente bene e attendiamo ancora qualche secondo ne approfitto per dirvi che il gioco si comanda via accelerometro per quanto riguarda la parte connettività wifi ABGN abbiamo l'LTE categoria 4 quindi 150 MB in download e 50 MB in upload bluetooth nella versione 4.0 abbiamo anche l'NFC e abbiamo GPS assistito quindi GPS e GPS e anche il GLONASS eccoci qua che siamo partiti con la nostra gara inquadratura degli specchietti che viene ben riprodotta possiamo andare anche a cambiare visuale possiamo andare a scegliere anche questa dove vediamo anche i riflessi della pista che vengono riprodotti sul dispositivo e la fluidità del gioco ci sembra davvero molto molto buona la Mali 450 MP4 si rivela ancora una volta un'ottima scheda video per quanto riguarda la perdita di frame anche nei giorni di utilizzo non ho avuto alcun problema mai rilevata usciamo e ci impiega qualche secondo per uscire dalla parte video quindi che dire di questo Hero 2 un dispositivo che mi ha sicuramente convinto per quanto riguarda design, materiali, parte multimediale, recezione e display unica pecca è che non essendo un dual sim potrà far sorcere in naso a tutti coloro che aspettavano un top di gamma vero e proprio senza avere rinunce dual sim quindi peccato per questa scelta ma comunque un ottimo dispositivo per techzilla.it è tutto un saluto da Salvatore ciao